Straordinari segni dati da un'anima del purgatorio. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di segni straordinari che sono stati dati da un'anima del purgatorio, segni di cui mi hanno parlato, in genere tutto quello che vi racconto, insomma, sono informazioni che leggo, insomma, spunti che prendo un po' di qua, un po' di là. Invece quello che vi voglio raccontare oggi sono delle testimonianze di persone, da parte di persone, ecco, che me le hanno dette di persona, proprio che mi hanno raccontato di episodi veramente straordinari. Innanzitutto, ecco, una mia carissima amica mi raccontò di come suo padre, qualche giorno prima di morire, nonostante fosse solo nella stanza dove si trovava, insomma, e dove era accudito da tutti i familiari, c'era un giorno che si trovava solo nella stanza da letto, solo lui con la figlia, e a un certo punto questo signore, che purtroppo di lì a qualche giorno sarebbe venuto a mancare, ha detto, guarda chi ci sta, guarda chi ci sta, perché la figlia, che tra l'altro una mia amica, ha detto, ma papà, qui non c'è assolutamente nessuno, e questo signore ha continuato a ripetere, no, no, come non c'è nessuno, è pieno di gente, pieno di gente, e dopo qualche giorno questa persona purtroppo è venuta a mancare, e riflettendo, insomma, con questa mia amica, ho sempre, abbiamo sempre pensato che la gente a cui faceva riferimento questo, questo signore fossero le anime del purgatorio che erano andati a prenderlo, perché questo è un racconto, insomma, che ho notato, è comune a molte persone, anche altre persone, insomma, hanno avuto l'impressione che i loro cari, prima di venire meno, abbiano ricevuto la visita delle anime del purgatorio che gli sono venute a prendere. E poi ecco un altro episodio, anzi una serie di episodi che adesso vi racconto che hanno dell'incredibile, mi sono state raccontate da un signore che purtroppo è rimasto vedovo qualche anno fa e dal figlio di questo signore. Innanzitutto ecco la cosa che mi è stata raccontata è che la moglie di questo signore è venuta a mancare alle sette meno cinque del mattino e quando poi il signore in questione, insomma, è andato a togliere l'orologio dal polso di sua moglie ha notato che l'orologio si è fermato proprio alle sette meno cinque del mattino, proprio all'orario in cui questa signora era purtroppo venuta a mancare. Nel frattempo il figlio si trovava a casa, insomma, stava dormendo e la signora, la madre, insomma sarebbe mancata alle sette meno cinque del mattino. Questo figlio sapeva, insomma, che la mamma non era in buone condizioni e stava a casa sua un attimo a riposarsi, prima chiaramente di alternarsi con il padre, di dare il cambio al padre. Ebbene, per tutta la notte, proprio la notte in cui, che sarebbe terminata con la dipartita di questa signora, nella camera del figlio, che era andato un attimo a riposare, c'era una bajour che per tutta la notte non ha fatto altro che accendersi e spegnersi da sola, fino al momento in cui, proprio alle sette meno cinque, questo fenomeno si è arrestato, quindi anche questa bajour che per tutta la notte non ha fatto altro che accendersi e spegnersi, fino a che questa bajour, insomma, si è spenta definitivamente, proprio in corrispondenza dell'ora del tapasso di questa signora. Poi, ecco, il marito mi ha raccontato che praticamente il giorno del loro anniversario questo signore si trovava da solo in cucina, un po' al freddo, diciamo, e stava avendo i suoi soliti doloretti, insomma, dovuti al freddo pungente, e a un certo punto praticamente si è accesa una stufetta e da solo l'interruttore si è mosso da solo e si è messo al massimo, e quindi nella stanza è incominciato a fare molto caldo, proprio il giorno dell'anniversario di nozze di questa, coppia, la cui signora, insomma, era venuta a mancare. Questo signore si è molto stupito, immediatamente ha spento la stufetta, ma questa stufetta ha cominciato di nuovo a, la rotella, insomma, la manopola, girarsi da sola e andare al massimo. E poi, parlando con il tecnico, insomma, che era stato chiamato per vedere, insomma, che cosa avesse questa stufetta, il tecnico non se l'è saputo spiegare il motivo, perché praticamente queste stufette erano fatte proprio in modo tale, avevano un dispositivo di sicurezza che impediva alle manopole di compiere quel tipo di un movimento da sole. E questo signore ha sempre pensato che trattandosi dell'anniversario di nozze. La, come si chiama, la moglie, essendo che aveva visto che il marito aveva qualche problema reumatico, reumatico dovuto al freddo, la moglie abbia voluto compiere un gesto d'affetto, come si chiama, accendendogli la stufetta per farlo stare bene al caldo. E di lì a poco avrebbe ritrovato anche per casa una forcina di capelli appartenente alla moglie, quando credeva, insomma, di averle tolte tutte. Mi ha detto che questo episodio è accaduto anche in un'altra occasione in cui lui stava vedendo una partita di calcio. Di nuovo questa stufetta, era una notte abbastanza fredda, ma si era abbastanza fredda, di nuovo questa stufetta, la manopola si è girata da sola ed è andata al massimo. E questo signore si è rivolto verso, insomma, questa presenza, perché lui ha pensato di nuovo si trattasse la moglie e ha detto, no, io guarda, questa sera non ho tempo di pensare a queste cose perché mi devo vedere la mia bella partita. E quando ha detto questa frase, a un certo punto la stufetta si è spenta da sola e non si è più riaccesa nel corso della serata, come se la moglie, insomma, avesse voluto prendere atto del fatto che il marito non aveva tempo per lei, insomma, per prestarle attenzione e abbia quindi in qualche modo, come si può dire, tolto la, tolto, insomma, spento la stufetta, diciamo, come una specie di segno, insomma, che lei togliva il disturbo. In un'altra occasione questo signore sempre si trovava in cucina e a un certo punto stava osservando la foto della moglie che non c'era più e che le stava chiedendo perdono, stava chiaramente piangendo per il dolore di averla persa, però le stava anche chiedendo perdono per qualche piccola infedeltà, insomma, di cui la moglie non era mai venuta a conoscenza. Ebbene, pare che un coperchio di una pentola, che era praticamente assicurato al muro da ganci molto molto forti, a un certo punto si sia, dopo la confessione dell'infedeltà del marito, si sia, questo coperchio e la pentola si è cascato sul piano cottura con un grandissimo rumore e il marito ci ha voluto vedere in questo una specie di disdegno, no? Avuto da questa donna nel sentir confessare al marito post-mortem, insomma, dopo la sua morte, questa sua infedeltà, anche se forse le anime del purgatorio, una volta trapassate, insomma, molti dicono che già conoscano tutto delle nostre vite, delle vite dei loro cari che sono rimasti, sappiano anche non solo il passato, ma anche il presente e il futuro, e abbiano una visione diversa anche di quello che è stato il loro percorso di vita, no? Una versione, una visione che non è più in qualche modo accecata da tutti gli errori di valutazione, di percezione che si hanno quando si hanno in vita, quando il peccato ci condiziona molto e non riusciamo a dare agli eventi una giusta interpretazione, ma abbiano, si dice che le anime del purgatorio abbiano degli eventi, la giusta visione, li riescano a guardare nella giusta prospettiva e si rendano conto anche di quelle che sono state non solo le carenze, le imperfezioni, gli errori dei familiari, delle persone a loro care, ma anche, soprattutto, dei propri errori, perché le anime del purgatorio capiscono solo, ormai quando non ci sono più, come avrebbero dovuto amare i loro cari, il modo giusto di amare i loro cari. Bene, carissimi, ecco, mi auguro che queste testimonianze, che ho raccolto inaspettatamente, proprio in un momento in cui non pensavo che qualcuno mi avrebbe parlato di queste cose, però forse sapendo il mio grande interesse per l'argomento, e insomma, me l'hanno voluto confidarmi questi loro tesori preziosissimi, insomma, di memoria, e ecco, mi auguro abbiano incontrato anche il vostro di interesse, io vi benedico e vi auguro tanta pace, tanta gioia e veramente tante benedizioni sulla vostra vita, anche da parte delle anime del purgatorio, mi auguro che possano vegliare su di voi, come già vegliano su di me, perché anche a me danno dei segnali straordinari della loro presenza, le anime soprattutto a me più care. Non c'è un momento in cui io non le senta vicine, e spero che la cosa valga anche per voi. A presto, carissimi.